Costretto ad osservare i tuoi compagni dalla tribuna in occasione della partita vinta contro Pozzallo a causa di problemi fisici, Manuel Fieri però torna disponibile per la partita contro Partanna. Sì, mi sono fermato per la partita di Pozzallo perché ho avuto un problema a Antenne e Achille venerdì poi ho fatto ecografia lunedì qui alla Mezzia e comunque è andato tutto bene e adesso da martedì ho ricominciato ad allenarmi. Quindi problema rientrato regolarmente disponibile in campo per la partita che si giocherà sabato? Sì, sì assolutamente e infatti già adesso comunque oggi abbiamo fatto allenamento e comunque è andato tutto bene, tutto a posto, non ho sentito niente quindi ci sono. Che impressione ha fatto osservare i compagni da una posizione insolita senza poter dare comunque il solito contributo, il solito apporto? Beh, comunque c'era un po' strano perché vederli da fuori così, vabbè, il tifo comunque c'era così poi stavo col fisio mentre facevo lo speaker quindi mi sono divertito anche un po' però dai, era meglio stare in campo. Era una partita decisiva, se vogliamo per staccare definitivamente Pozzallo, per determinare quelle che saranno le due squadre che faranno poi i play-off sabato però sarà un'altra gara importante da non sbagliare perché il concomitante riposo di cinque frondi potrebbe permettere appunto di allungare ancora in vetta. Sì, è stato molto importante vincere domenica perché comunque era terza in classifica, adesso siamo appunto se vinciamo sabato andiamo a più sette perché comunque la seconda riposa quindi anche se non è diciamo del calibro di Pozzallo possiamo dire, comunque è una partita importante e dobbiamo essere concentrati. Ecco, dicevi, non sarà una partita sulla carta uguale all'altezza insomma di quella contro Pozzallo perché si affronta Partanna che anche all'andata non è riuscita a dare del filo da torcere alla cona della mezza. Sì, però comunque anche noi con squadre diciamo che sulla carta erano inferiori a noi, ci hanno dato comunque problemi perché magari l'affrontavamo in maniera un po' più rilassata e questo non deve accadere sabato in partita. Si giocherà sabato perché poi c'è da preparare un evento, un appuntamento importante, ci si allenerà lunedì, martedì e mercoledì, giovedì si parte, si va a Portoviro perché è arrivato il momento di giocare la Final Four di Coppa Italia. Sì, giochiamo sabato, poi abbiamo un giorno in riposo e poi ci prepariamo per questa Coppa che appunto già ci stiamo pensando da un po', però comunque prima c'è la partita di sabato, però siamo concentrati anche per quella e abbiamo una testa avanti. C'è la possibilità, ecco, fra poco più di una settimana di portare a casa il primo obiettivo. Sì, speriamo di farcela, comunque c'è un lungo viaggio ancora in treno da fare, però comunque sono due partite importantissime e le affronteremo in maniera giusta.